A Nizza i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a nome delle rispettive istituzioni sottoscrivono e proclamano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per la prima volta nella storia dell'Unione europea, un unico testo raccoglie i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei, nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione.